Ora attenzione Ariaudo, non è finita, stiamo concentrati. Matri, contropiede della Juve, va giù Matri, si prosegue per il vantaggio del Piero, Toni si porta all'interno dell'area di gore, il cross per lui, il colpo di testa di Luca, gol! 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 Gol a Juve, gol! Centesimo gol in Serie A da parte di Luca Toni! E allora tutti in piedi dai divani ragazzi, con la maglia bianco e nera, sugna Luca, era ora Luca Toni, sei per me, numero uno, gol numero cento di testa da parte di Luca Toni al minuto numero 39, e allora adesso la partita dovremmo averla chiusa, perché se non chiudiamo questa, dove ci è andata bene anche la decisione arbitrale, siamo dei fessacchiotti, 1-3, gol di Luca Toni, primo gol anche di Luca stasera, con la maglia della Juventus.